Salve a tutti ragazzi, eccoci nel nuovo episodio di Super Mario Siamo al mondo numero 3 Perfetto, ok Ma le ma... ah vuoi prendere? Vieni qua E prosegue quindi le nostre avventure Mondo per mondo Mi raccomando, io vi invito a lasciare un commento Con le vostre impressioni O i vostri ricordi se l'avete giocato Se avete vissuto in passato queste perle di gioco Ha spaccato tutto Ma qui non c'è mai niente di strano, di nascosto, no? No, vabbè, via E quindi fatemi sapere la vostra nei commenti Ovviamente dato che ci siete iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora mai fatto Che ad uno che fa video fa sempre piacere Sembrerà strano ma è così Ok Ok, ok, ok E ok Ho sempre fatto paura con le molle A volte capita che premi male E fa un salto moscio Quindi muori Semplicemente Cazzo, non l'ho preso Tiè, becca questa Eh, soldi, 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 soldi Eccoci qua Perfetto E il primo è andato Tempo di notte Sempre innevato Ah, qui c'era mi sembra Vediamo se la memoria non mi inganna Possibilità di guadagnare una vita Sì, sì Sì, sì Esatto Ma che combo Forse anche qui No, scherzavo Soldi Fanno sempre comodo i soldi Ah, la stella pazza Vai Uccidi tutti Piano No, si è buttata Pony che finisce l'effetto Ok Ok, perfetto Quando c'è questa scalinata È sempre Un segno positivo Vai, così Benissimo Perfetto Abbiamo fatto anche Un fuoco d'artificio Basta Tirchi Mettiamo qua che Quei monetini laggiù Ma chi se ne frega Dai, dai Fare salti rischiosi Per due monete Ok, così Dov'è? C'era, vieni Ok, questo che fa? Va giù Giustamente Ok Tutto tranquillo Devo andare lassù Merda No, non ci volevo andare In realtà Invece ci vado lo stesso Ti è Ok Ok Tutto tranquillo Tutto liscio Per ora E qui? C'è il traguardo? Sì Perfetto Vai, subito Il castello Siamo equipaggiati Con le palle di fuoco Siamo pronti Ad affrontare Browser Fuochi d'artificio Tre, grazie Ce ne hanno regalati due Molto gentili Vediamo Così tecnicamente Ce la dovremmo fare Ma hanno un ordine preciso Quest'affare Via, via, via Via, via, via Grande Ok Qui abbiamo Rifornimento In caso di Danni Ok Piano Qui Via, via, via Ancora Ora Via Quelle monetine Servivano Attenzione Rischio Quelle monetine Servivano Ad indicare La traiettoria ideale Attenzione Qui C'è da farci Del male Appunto Appunto Cazzo Ora siamo piccoletti Ci farà il culo Ok Vediamo Di non morire E che Cos'è Quell'affare Lì No Cazzo Allora Corto Rifacciamolo Con calma Perché poi Il problema Di questi giochi È che quando muori Allora Ti prende furia Cerchi di andare Più veloce E muori male Funghetto Vitale Importanza Perché Sarebbe in fondo Contro Bowser Che Almeno Il funghetto Ti colpisce Sei Per quei Per quei due Tre Un paio di secondi Sei invincibile Quindi È fatta Nel senso Come girano Strani Girano quella prima Mi sa di no Vabbè Ok Dai Tutti fermi Dai Ok No Giù Ora 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 Non ti ferma Ma porca Puttana Rieccoci Punto a capo Vai più in là Non ci passo Poo Andiamo qui Il momento Il momento Cazzo Sì 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 Perfetto Questa è andata Uh Rischio Benissimo Anche questo mondo È terminato Quindi termina anche Questo video E vi do appuntamento Alla prossima Episodio La principessa In un altro castello Perfetto Quindi ci vediamo Alla prossima Ciao